Poliziotti e carabinieri si sono presentati in forza nelle prime ore del mattino in tenuta antisommossa e hanno circondato l'immobile dell'ex-osteria La Vida in campo San Giacomo dell'Orio per dare esecuzione al sequestro penale preventivo ordinato dal Tribunale di Venezia. Lo stabile, anticamente sede di uno dei primi teatri anatomici d'Europa, era occupato dallo scorso settembre quando un collettivo di cittadini ne aveva preso possesso rivendicando spazi pubblici per i veneziani. A far scattare la protesta, la vendita dell'ex-osteria da parte della Regione Veneto, un imprenditore che vorrebbe aprirvi un nuovo ristorante. Il problema è capire se in questa città devono esserci dei luoghi pubblici gestiti dalle comunità e vissuti dai cittadini oppure se c'è solo turismo. La nostra iniziativa, che non si ferma qui perché andrà avanti nelle forme e nei modi che decideremo, tende a far pesare le comunità dei residenti per la presa in mano, la gestione e la vita nella loro città. Gli occupanti non hanno potuto far altro che obbedire agli ordini delle autorità, uscendo ordinatamente dall'edificio. Non si sono registrati momenti di tensione. Il materiale che serviva alle attività messe in piedi in questi mesi, tra cui una ludoteca per i bambini, è stato spostato in campo. Intorno al gazebo si sono radunate decine di veneziani decisi a dar vita a un presidio di protesta. Non sono nonna, però mi piacciono i bambini. Ed ero contenta quando c'erano i bambini che giocavano qua, che era diventata una ludoteca. E sono stata contenta di conoscere un poeta che è veneziano e vicino di casa, ma che è molto bravo. Francesco Giusti. Io se non fossi andata alla presentazione di questo libro di poesie, fatta niente meno che a gambe, io non avrei conosciuto Francesco Giusti. Mi hanno fatto del bene a me questi ragazzi che col freddo, quando gli hanno tolto la luce, il calore, tutto, sono rimasti qua. Diversa la questione dal punto di vista della legge. Trattandosi di una proprietà privata, il Tribunale non ha potuto far altro che aprire un'inchiesta penale contro i promotori dell'occupazione.